Beh ragazzi il mio è Raff e oggi siamo qui con un altro episodio di Heyday Tanto non le prendo Oh c'è un palloncino L'ho preso Mi ha dato dell'esperienza Grazie palloncino Tra l'altro guardate qua che novità che c'è C'è un barcone mega gigante Che è venuto parecchie volte Grazie Salex Per chi non sapesse cosa fossero queste cose Praticamente puoi chiedere aiuto ai tuoi amici del clan Per farti ricostruire i tuoi alberi Marci Tipo questo marcio Fai così Tac E chiedi aiuto Molto figo come cosa Guardate qua quanto grano che ho Perché voglio almeno mettere un po' di grano nella barca 72 che non è poco ragazzi Non è poco Uh dei muffin Grande Ah ce ne manca uno Porca miseria Non so se ce la facciamo La barca se ne va fra 8 ore e 54 minuti Sì dai ce la facciamo Ce la facciamo Almeno spero Ma ciao bruchetto Tra l'altro guardate lì ragazzi cosa ho vinto Quel coso verde E praticamente serve per sbloccare i Gli animali domestici Tipo il cane o il gatto Da quello che ho capito Altre novità che ho fatto Ho messo questo qua La macchina da cucire Che serve per fare le pantofole Molto swag Come vedete ragazzi il mio amico può chiedere aiuto In questo caso gli serve un aiuto in barca Solo che io ho zero panini Eh mi sa che non ce la facciamo amico mio Gli servono 38 carote Purtroppo io non ce le ho Però Ciao Guardate quanto fottuto grano Mamma mia ragazzi noi dobbiamo raccogliere un casino Ce la dobbiamo fare Metti metti sto grano Cosa volete voi che venite sempre qui a disturbare Cacchio balli tu Mamma mia ste persone Si ho vinto dei diamanti Si diamanti che bello Tra l'altro se volete diamanti scaricatevi app nana C'è la volpe Guarda si nasconde dietro l'albero Cosa ha fatto regà Ha fatto tipo Michael Jackson Tra l'altro saluto tutti questi che sono entrati E siamo livello 21 L'ho notato solo ora Grande Prendiamo un po' di latte Dalle nostre belle mucche Eccola la signora Venga venga pure Cosa vuole Tra l'altro guardate quella panchina quanto è bella Tra l'altro a livello 24 si sblocca la miniera Wow non vedo l'ora E guardate quanti fottuti alberi Ma si dai facciamo esplodere tutto Dai ci siamo quasi 68 su 72 Ma si dai vendiamo i cappelli Vediamo un po' che ha Greg da darci Una carota a due Ladro Dai su cresci grano del cavolo Tra l'altro abbiamo 12 diamanti 12 diamanti 12 diamanti Oh possiamo sbloccarci qualcosa Grazie Non so pronunciare il tuo nome Manco se mi uccidessero Volevo fare l'albero di Natale Come speciale di Natale Però costa un po' troppo Uh 300 Per questo vasetto molto carino Dai ci sta ci sta Lo mettiamo qui Guardate che bellino Troppo bello Una bicicletta Sembra la bicicletta di Ash Quello dei Pokemon Oh il grano è cresciuto Grande Prendiamolo tutto 72 Sì grande E abbiamo sbloccato un obiettivo Grande Una missione volevo dire Un diamante Non male Non male Ecco qua Ho tolto un po' di alberelli Uh Posso mettere la cuccia Che per ora non ci serve a un cavolo Però la mettiamo Cuccia per cani Qui Però girata è più figa Oh vicino al nostro bruchetto Quindi ci manca Un solo muffin E possiamo partire con la barca Ok ragazzi Per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Va ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video